Emilio Salgari Le novelle marinaresche di Mastro Catrame Sette I fuochi misteriosi Il giorno seguente, l'oceano fu agitatissimo, essendosi elevato un vento assai caldo, che veniva dai deserti della costa araba, la quale non distava che poche decine di leghe. Due volte, durante la giornata, fumo costretti a prendere terzaruoli sulle vele basse, onde diminuire la superficie della tela, e ad imbrogliare i pappafichi e i contropappafichi. Verso il tramonto, però, il vento diminuì sensibilmente, ed anche il mare si calmò un poco, sicché papà Catrame, che senza dubbio aveva molto calcolato su quel cambiamento di tempo, sperando di evitare la sesta novella, di buona o cattiva voglia fu costretto a prendere posto sul barile. Ma quel vecchio orso, prima di sciogliere la lingua, brontolò assai. Perdette un buon quarto d'ora nel caricare la pipa, e si soffiò il naso almeno dodici volte, e con un tal fracasso da assordarci. Quando però si fu sfogato a modo suo, mettendo a dura prova la pazienza dell'uditorio, si decise ad aprire la bocca. —Narrano le leggende! incominciò. —Basta di leggende! esclamò il capitano. —Auf! —Non la finirai adunque più con quelle vecchie storie? —Non vi garbano? —Ne ho le tasche piene, papà Catrame. Il mastro si mise a sogginare, ma in certo modo da far abbrividire tutto l'equipaggio. —Ah! esclamò egli, lisciandosi il mento e tirandosi la bianca barba. —Non vogliono udire le antiche leggende? —Benissimo! Allora cambieremo rotta e correremo prima un paio di bordate. ci guardò poi uno per uno, come volesse prima assicurarsi che c'eravamo tutti, indi ci chiese. —Avete mai veduto voi durante certe notti brillare dei fuochi sul mare? —Abbiamo veduto i fuochi di Sant'Elmo scintillare sulla cima degli alberi, rispondemmo. Papà Catrame si strinse nelle spalle, mentre un sorriso beffardo gli spuntava sulle sottili labbra. —Sant'Elmo e i suoi fuochi non hanno a che fare con la mia domanda. —Vi ho chiesto se avete veduto dei fuochi apparire in mezzo alle onde. —Mi pare di averne veduto uno su di una spiaggia deserta, disse un timoniere. —Tu sei un asino, chiudi la bocca, e non aprirla se non ti do il permesso. —Si dice... Si fermò per vedere quale faccia avesse il capitano, ma, vedendolo tutto attento, continuò. —Si dice adunque, e non solo da poco tempo, ma da molti secoli, che su certi mari, di quando in quando, appariscono, e specialmente di notte, di fuochi, che pare salgono dalla profondità degli oceani, e che mandano una luce intensa. —Cosa siano, io non ve lo saprei dire. Ma si diedero molte spiegazioni, più o meno stravaganti, più o meno vere, più o meno paurose. Alcuni dicono che si formano per una combinazione di gas sviluppatisi da qualche grosso cetaceo galleggiante a fior d'acqua. Altri, che sono accesi da feroci predatori entro gusci, per attirare le navi contro qualche vicina scogliera, e quindi impadronirsi degli avanzi. Altri ancora affermano che provengono da vulcani sottomarini, ma i più ritengono che siano segnali misteriosi che fanno i naufraghi del mare per attirare le navi in qualche grave pericolo, ed avere nuovi compagni in fondo agli abissi marini, o per salvarle. Credete ora a quella versione che meglio vi piace. A me poco cale, giacché so che non credereste a ciò che io voglio dire in proposito. — Per Giove! esclamò il capitano. Ci vuol poco indovinare che tu credi alle fiamme dei naufraghi. — Sì, e di quelli morti malamente, proruppe il mastro con profonda convinzione. — Ma lasciamo là. Io credo, mentre voi non credete affatto. Ebbene, non se ne parli più e tiriamo innanzi. O prima che finisca la mia pena non mi rimarrà un pezzo di lingua. La storia che sto per raccontarvi si è svolta appunto nei mari della grande penisola indiana. Montavo in quel tempo un vascello olandese, poiché io ebbi sempre la mania di cambiare sovente nave, onde percorrere l'orbe terracue in tutti i sensi, e apprendere le manovre che sono in uso presso i marinai delle altre nazioni. Portava un nome così barbaro che non me lo ricordo più, per quanto abbia messo a prova il mio cervellaccio. Ma questa dimenticanza non influisce né diminuisce l'interesse della mia novella. Vi dirò, però, che quella nave non godeva la fiducia di nessuno, e che era destinata a finir male. Infatti, quando venne varata, tre marinai erano rimasti uccisi, e voi sapete che una nave battezzata col sangue, anziché con lo champagne, non porta fortuna. Più tardi, un piroscopo americano le aveva dato una tale spironata sotto l'anca di Babordo da mandarla a picco in tredici minuti, proprio dinanzi al porto di Rotterdam. E voi non ignorate che una nave rimessa a galla non è mai sicura, poiché si dice che abbia una forte tendenza a ritornare in fondo al mare. Saranno ubi e di vecchi marinai superstiziosi, ma io vi dico che quella nave camminava molto male, che quando la si caricava affondava più di tutte le altre, che quando veniva colta da una tempesta, tendeva sempre a precipitare negli avvallamenti delle onde, come se avesse una voglia matta di tornare a riposare in fondo all'oceano, senza occuparsi di quei poveri diavoli che la montavano. E poi, se aveste udito come gemeva, pareva che si lagnasse ad ogni colpo di mare, scricchiolava tutta, i suoi puntelli si piegavano come stuzzicadenti, le sue costole cedevano, e si udiva la chiglia torcersi con profondi brontolii. Vi assicuro che la spina dorsale di quella compatriotta del vascello fantasma non era gran fatto solida, e tutti noi che la montavamo trovammo più volte delle forti paure. Aggiungete che a bordo correva una strana diceria che faceva impalidire tutti gli uomini dell'equipaggio ogni volta che tornava al loro pensiero. Si diceva che un vecchio marinaio che passava per un indovino di prima forza, e che aveva assistito all'immersione della nostra nave dopo l'asperonata dell'americano, aveva fatto un brutto pronostico. Cioè, aveva detto che sarebbe tornata ad affondare il giorno in cui avesse incontrato uno di quei fuochi misteriosi che sorgono dal fondo dell'oceano. Io sarò superstizioso, ma ho sempre creduto che certe navi abbiano una tendenza spiccata a scendere negli strati oscuri del mare, e non galleggino che a grande stento. La mia doveva essere una di quelle, tanto più che era stata disgraziata fin dal principio della sua discesa nelle onde. —Ride qualcuno di voi? —Incredoli! Vi auguro di montare una nave uguale a quella olandese, e vorrei essere presente il giorno in cui vi toccasse la disgrazia che colpì papà Catrame e i suoi compagni. Ora aprite gli orecchi e non fiatate più. Malgrado il funebre augurio del vecchio indovino e i grandi difetti della nave, avevamo fatto parecchi viaggi senza che ci toccasse alcunché di grave. Però tutte le notti gli uomini di guardia aguzzavano gli sguardi, temendo sempre di scorgere la fatal fiamma, e ogni volta che scorgevano un punto luminoso, la luce di un faro o il fanare di posizione di qualche nave, trasalivano, e correvano a svegliare i compagni, temendo che il nostro legno cominciasse a inabissarsi. Tanta era la certezza di sentirselo mancare sotto i piedi, che alcuni asserivano d'averlo veduto abbassarsi di parecchi pollici, nel momento che la suoneria di bordo batteva i dodici tocchi, per poi risalire lentamente al primiero livello, appena i primi albori rischieravano l'orizzonte. —Era un vascello stregato! chiesero alcuni marinai, che si sentivano accapponire la pelle a quel racconto pauroso. —Che ne so io? rispose papà Catrame. —Vi dirò che anch'io credetti una volta di sentire la nave abbassarsi lentamente, e che quando rimontò la vidi tracciare attorno a se stessa un largo cerchio di spuma, precisamente come fanno le balene e i grandi mammiferi marini allorché salgono alla superficie del mare per respirare. Papà Catrame si interruppe, per lasciare che la curiosità impressionasse meglio l'uditorio. si bagnò il gorgozzule con un sorso di cipro, si lisciò per la centesima volta il mento e la barba, aveva tale mania quella sera, poi con un certo accento che fece correre più d'un brivido, riprese il filo della narrazione. —Avevamo lasciato il Madagascar con un carico d'avorio nero diretti a Calcutta. —Ah, voi sbarrate gli occhi, e mi guardate con tanti punti ammirativi! —Non sapete dunque cosa sia l'avorio nero? —Ecco gli scienziati moderni. —Quel lavorio era composto di schiavi africani destinati alle piantagioni di Indaco, essendo allora la tratta permessa, senza che gli incrociatori delle nazioni europee si mischiassero come fanno oggi in quel genere speciale di merci viventi. Erano certi pezzi d'uomini alti come i nostri granatieri, con certi muscoli e certi pugni, che se vi davano uno scapaccione vi mandavano da poppa a prua a baciare il buon presso. Quella disgraziata nave aveva preso il largo di malavoglia. Non so cosa avesse, ma camminava più lentamente d'una lumaca. Quando eravamo costretti a bordeggiare, si inchinava tanto da far temere che da un istante all'altro si rovesciasse, o, come diciamo noi, si ingavonasse. E, quando le onde la scuotevano, si abbassava pesantemente negli avvallamenti, e non voleva saperne di rimontare. Si sarebbe detto che aveva un'anima, e che quell'anima aveva giurato di andare a riposare in fondo a quel mare da cui gli uomini l'avevano tratta. Se vi narrassi degli scricchioli che emetteva, e dei fragori che si odivano in fondo alla stiva ad ogni colpo di mare, vi farei rizzare i capelli. In certi momenti pareva che qualche mostro battesse sotto la chiglia, come per avvertirla che era tempo di tornare sotto le onde. E, infatti, specialmente di notte, si udivano dei fragori inesplicabili, che sembravano prodotti da un immane martello. Eppure navigavamo in pieno oceano, e la carena né toccava, né urtava contro alcuna scogliera, né sopra alcun banco. Eravamo giunti a circa cento leghe dalla focce del Gange, un fiume immenso che solca l'India, e sulle cui sponde sorge Calcutta. Bene o male la nave si era spinta fino a quel punto, ma non pareva disposta a tirare molto innanzi, poiché camminava sempre più lentamente, e gli scricchioli erano diventati così insistenti e così acuti che ci impedivano perfino di dormire. Il capitano, temendo che da un istante all'altro il legno si disarticolasse, in causa della cattiva sua costruzione, procedette ad una visita, ma non riscontrò alcuna avaria, solo s'accorse che sotto l'anca di Tribordo, cioè nel punto dove lo sperone del piroscofo americano l'aveva colpita, penetravano alcune gocce d'acqua. I puntelli parevano soliti, i corbetti sempre uniti al fasciame, i bagli a posto, le ruote di prue e di poppa salde, e il paramezzale appariva diritto, ciò che indicava come la chiglia non avesse ceduto d'un sol centimetro, malgrado i numerosi viaggi che aveva fatto, e le non poche tempeste superate. Calò la notte, buia come la culatta di un cannone o il fondo d'un barile di catrame, senza luna e senza stelle. Il mare era diventato color dell'inchiostro, però, in mezzo alle larghe ondate, si scorgevano di tratto in tratto dei fugaci bagliori. Era il principio di quel fenomeno che chiamano fosforescenza marina e che è comune nei mari dei climi caldi? Oppure li produceva qualche causa misteriosa? Non ve lo saprei dire. Anche il vento quella sera aveva nei suoi fischi un non so che di strano, che faceva su tutti noi una certa impressione. Le undici erano suonate da pochi minuti nella cabina del capitano, ed io avevo montato il mio quarto di guardia da poco più di un'ora. Quando il timoniere, che stava appoggiato alla ribolla del timone, giacché in quel tempo la ruota ancora non era in uso, mi disse —Catrame, ascolta attentamente! Rabbrividì, paventando qualche cosa di sinistro, e tesi gli orecchi. Udì distintamente tre forti colpi, che venivano dalla carena del legno, e che rintronavano nella stiva. Pareva proprio che qualcuno avesse vibrato tre potenti martellate contro la chiglia, e fossero i miei occhi o la paura o la realtà, vidi la nave trabalzare tre volte e ricadere pesantemente, sollevando una grande onda circolare. —Che la nave abbia toccato! chiesi sottovoce. —È impossibile! mi rispose il timoniere. Siamo ancora lontani dalle coste indiane, e che io sappia il golfo del Bengala non ha bassi fondi. —Che i negri vogliano spaventarci? Va a vedere se dormono! E ci appello al mio coraggio e scesi nel frapponte. Gli schiavi stavano sdraiati uno addosso l'altro, e dormivano profondamente, anzi, russavano sonoramente come tante gran casse. Risalì in coperta più spaventato di prima. E nel momento in cui montavo i due ultimi gradini, udì risuonare nelle profondità del legno altri tre colpi sordi, simili a quelli di prima. La cosa cominciava ad impensierirmi. O il legno toccava su qualche passofondo, o stava per avverarsi la sinistra profezia del vecchio marinaio. Di lì non si poteva scappare. Riferì al timoniere quanto avevo veduto e udito. Lo vidi diventare pallido come un morto e farsi il segno della croce. Vedi alcun fuoco apparire sul mare? Mi chiese abalbettando. Girai gli occhi in tutte le direzioni, ma era buio. Anche quei misteriosi pagliori che poco prima si scorgevano attorno alla nave erano scomparsi. Trascorse un'altra mezz'ora, fra la più viva ansietà per tutti noi, ed i misteriosi rumori non si ripeterano. Però la nave scricchiolava più di prima, e ai nostri orecchi giungeva una specie di gorgoglio, che pareva prodotto da una fuga d'acqua. Non ci facemmo gran caso, credendo che fossero le onde che si infrangessero contro la prua. Ad un tratto, ecco risuonare distintamente i tre colpi di prima, ma questa volta erano così potenti che tutti gli uomini di quarto li udirono. Non saprei descrivervi il terrore che si impadronì di tutti noi in quel terribile momento. Se fosse apparso dinanzi alla prua della stregata nave un mostro spaventevole, non avremmo provato un'emozione così forte, poiché un certo coraggio tutti l'avevamo, ma quell'inesplicabile mistero ci faceva ghiacciare il sangue e rizzare i capelli. D'improvviso, un grido immenso e che già prua, ma un grido di terrore e di disperazione, guardai. Là, sull'oscura linea dell'orizzonte, una grande fiamma ad una limpidezza ammirabile, che spandeva sul mare circostanze una viva luce, brillava. Era una fiamma perfettamente immobile, tranquilla, più larga che lunga, ma che nel mezzo formava tre punti acute. Eravamo perduti. La sinistra profezia del vecchio marinaio olandese si avverava. Quasi nel medesimo tempo udimmo sorgere dal frapponte urla terribili. Gli schiavi sentivano per istinto che la loro ultima ora era suonata, o scorgevano anch'essi attraverso alle pareti della nave la misteriosa fiamma. Pazzi di terrore ci eravamo aggruppati tutti a prua, e guardavamo sempre quella luce. Una forza inesplicabile ci teneva come inchiodati sul ponte, e ci sentivamo affascinati da quel bagliore che rischierava il lontano orizzonte, nell'egual modo dell'uccello, che si sente affascinare dagli occhi del serpente. Una voce ci strappò da quella immobilità strana. —Si salvi chi può! La nave affonda! Era il nostro capitano a gettare quel grido d'allarme. Ci curvamo sui bordi, e vedemmo che la nave affondava lentamente con un largo dondolio. In un baleno calamo in acqua i canotti. Nel momento di entrarvi udimo i poveri negri a mandare grida strazianti. Essi pure si erano accorti che il vascello andava a picco. Seguito da alcuni coraggiosi compagni, scesi nel frapponte, e tentai di spezzare le catene, che stringevano a quei disgraziati, ma il tempo mancava. La nave oscillava fortemente, scricchiolava sinistramente, fremeva tutta, e giù nella cala si udivano i mugiti delle acque irrompenti nella stiva, e l'urtarsi dei legnami galleggianti. Fuggi in coperta assieme a coloro che mi avevano seguito, balzai nel canotto ormeggiato sotto la poppa, e ci allontanammo con la massima celerità, onde non venire travolti e inghiottiti dal gorgo. La nave affondava lentamente, ma irresistibilmente, come se fosse attratta in fondo al mare da una forza misteriosa. Girava su di se stessa, come si trovasse in mezzo di un vortice. Dal frapponte si elevavano urla d'angoscia emessi dai poveri negri, i quali vedevano montare l'acqua senza poterla evitare, perché trattenuti dalle catene, e si sentivano poco a poco affogare. Gli alberi oscillavano come se fossero lì per spezzarsi, o cadere in coperta con tutta l'attrezzatura. E dal fondo del legno provenivano di quando in quando dei colpi sordi, prolungati, che si ripetevano nei nostri cuori, mentre all'orizzonte brillava più limpida che mai la grande fiamma. Ad un tratto una sorda detonnazione rintronò nella profondità del vascello, e il ponte, sotto la spinta dell'aria interna, compressa dal montare continuo dell'acqua, saltò in aria, come sotto la spinta di una polveriera che scoppia. Allora il legno affondò rapidamente, sparvero le sue murate, i primi pennoni, poi i secondi, i terzi, gli ultimi, e finalmente le punte degli alberetti. Per alcuni istanti udimo risuonare sotto le acqua le urla del nostro carico vivente, poi un'onda, una specie di muraglia liquida, si distese mugendo sul mare, e la nave stregata scese in fondo agli immensi e tenebrosi abissi del golfo del Bengala. Quasi subito la fiamma che brillava all'orizzonte si spense, e ci trovammo avvolti nella più profonda oscurità. Guardai l'orologio. Erano le tre del mattino, meno sei minuti. Raprividii. Proprio in quell'ora, due anni prima, quella nave era calata in mare sotto la speronata del piroscofo americano. Due ore dopo le nostre scialuppe prodavano a Sangor, la prima isola che si incontra alla foce del Gange. Prima di sbarcare guardammo verso il sud. Il mare era deserto e ancora tenebroso, e la fiamma non era più riapparsa. La profezia del vecchio olandese si era avverata. Mastro Catrame scosse il capo, e parve immergersi in profondi pensieri. Un funebre silenzio seguì quella paurosa narrazione. Eravamo tutti vivamente impressionati, e i nostri occhi scorrevano il mare indiano, temendo di scorgere ad ogni istante quella misteriosa fiamma. Anche il capitano taceva. Mastro Catrame stette alcuni minuti raccolto, poi, alzando lentamente il capo e fissando il capitano, gli chiese. — Non ridete ora! Guardammo l'interrogato. Aveva il capochino sul petto, le braccia strettamente incrociate, e pareva che facesse uno sforzo straordinario per sciogliere quell'enigma. — Non ridete! ripetè il vecchio. Nemmeno questa volta il capitano rispose. Egli pensava sempre. Un sorriso di trionfo apparve sulle labbra di papà Catrame. Scese dal barile, si mise sotto il braccio la sua bottiglia semivuota, e se ne andò senza guardarci. Ma mentre scendeva la scala che metteva nella stiva, udivamo risonare ad intervalli il sorriso beffarto.